Turn around and look at what you see, in her face, the mirror of your dreams. Ah ragazzi ragazzi che stoccata al cuore veramente, che stoccata al cuore. Nel bel mezzo della scena finale, tutti sono con l'acqua alla gola, aspettano codici, gli altri sono in macchina, inseguiti dal Mindflyer, loro si mettono a cantare la storia infinita ragazzi. No vabbè, vabbè, scena geniale, geniale, veramente dieci erode agli sceneggiatori. Realmente non sono rimasto estasiato, il mio cuore si è sciolto come neve al sole perché mi ha riportato a tutti i ricordi da bambino quando ho visto quel film, ma no, no, guarda, capolavoro, veramente quella scena rimarrà per tanto tempo negli annali delle serie tv, veramente dura che faranno qualcosa di più epico a breve, veramente. Susie e Dustin sono stati veramente incredibili ragazzi. Allora, come avete capito bentornati sul mio canale, oggi parleremo di Stranger Things, farò una recensione completa sulla stagione e solo questa scena ragazzi, secondo me, è valsa tutta la stagione, cioè veramente epica, epica. Mi hanno fatto volare tre giorni che canticchio sta canzone, sto camminando un metro da terra, epica, non esiste nient'altro, ma partiamo dal principio, partiamo dal principio. Allora, questi russi, questi russi sbucati da non si sa dove, non si sa soprattutto se loro avessero scoperto per i fatti loro il portale per il sottosopra oppure l'abbiano scoperto in qualche modo vedendo cosa era successo a Hawkins, questo non si sa, non ci hanno spiegato neanche quali fossero le intenzioni, perché riaprire sottosopra, cosa volevano ottenere, tutte queste cose non sono state spiegate ma vabbè, sapevamo che Stranger Things già dalla seconda stagione ci aveva dato qualche lacuna in base di trama e quindi diciamo che almeno sono stati coerenti con questo percorso perché così è stato anche nella terza stagione la trama diciamo è andata un po' a farsi benedire, però è stata bella, è stata bella, molto scenografica, molto arricchi di colpi di scena, il villain era super figo, dai il Mindflyer non è stato male e poi anche Billy devo dire che come diciamo portavoce il Mindflyer è stato veramente credibile, molto bello, molto bello anche scoprire qualche particolarità del suo passato, anche ci ha fatto vedere anche attraverso i ricordi che Undici è andata piano piano scoprendo il come lui si sia trasformato da bambino dolce in quest'anima ribelle, sempre a causa dei maltrattamenti del padre, è bello dai, è stato bello, è stato bello, abbiamo scoperto un lato di lui tenero che infatti alla fine si è trovato utile perché ha aiutato Undici a fermare il Mindflyer e diciamo a portare di nuovo il bene a Hawking e a sconfiggere il cattivore. Allora parliamo invece di Undici, Undici è stato un po' un sottotono in questa stagione e all'inizio in primi episodi c'è stato gioco delle coppie tra lei, Alex, Mike e Lucas però è stato carino, è stato carino vederla diciamo in una veste un po' più teenager, un po' più da ragazzina normale come tutti gli altri, che fa shopping, scherza con le amiche eccetera. Vorrei rimarcare la bravura di Millie Bobby Brown come attrice perché per chi non la conoscesse non la seguisse sui social, lei ormai è completamente una diva, sempre vestita super fashion, sempre con occhiali da sole, sempre a ballare, fare, scatenarsi, vivere proprio e godersi la vita e la fama che gli ha dato Stranger Things, quindi recitare nei panni di Eleven, questa bambina un po' chiusa che ha difficoltà anche a esporsi, a comunicare, non deve essere stato facile, lei è riuscita davvero in grande maniera, veramente brava Millie, brava 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 Allora, di chi potremmo parlare? Potremmo parlare di Hope, Hopper, Jim Hopper, grande sacrificato di questa stagione, non me l'aspettavo sinceramente, non me l'aspettavo, anche se ci avevano dato qualche indizio la scena prima perché tutto si era sistemato con Joyce, si erano dati appuntamento, sembrava che potesse finalmente partire una relazione seria e sana tra loro due, ma tutto è stato cancellato e dovevamo aspettarci perché di solito quando ci danno questi indizi positivi su un personaggio vuol dire che la sua fine è vicina, perché ci fanno credere di un ipotetico futuro roseo per loro e invece bam, ce lo stroncano sul nascere. Alcuni pensano che non sia morto perché il fotogramma di lui che si scompone nell'aria come gli altri soldati russi non c'è stato, però secondo me non sarebbe credibile una sua ricomparsa in un'eventuale stagione quattro, spero che le cose rimangano così e questo dimostra che Joyce porta un pochino sfortuna perché il suo fidanzato nella seconda stagione è morto, il suo fidanzato nella terza stagione è morto, forse il marito, il primo, aveva capito di questo suo superpotere e ha pensato bene di separarsi, infatti è l'unico che è sopravvissuto, forse già vista la lunga alla fine, l'ex marito Joyce. Di chi altro potremmo parlare? Potremmo parlare di Steve che ormai sempre più in coppia fissa con Dustin, Steve che in questa stagione è stato eletto come rappresentante del ruolo comico della stagione, poverino, mi è sembrato un po' il tor della situazione di Avengers Endgame. A lui sono state destinate tutte le sfortune, ormai non è più un Don Giovanni, non è più popolare, si è confidato finalmente con la ragazza che aveva appena scoperto di amare, Robin, la sua collega, nella quale però gli ha dato picche visto che si è definita omosessuale. Allora, poi le nuove due entry della stagione, Erika e Robin, grandissime, simpaticissime. Robin non è niente po' po' di meno che la figlia di Itano che è Uma Thurman, quindi mi sa che questa ragazza avrà anche lei il destino segnato ormai nella recitazione. Di chi altro potremmo parlare? Dustin e Susie, incredibili. Sapevo che Susie esisteva, nonostante lo scetticismo degli altri amici, e immaginavo avrebbe avuto un ruolo importante nella chiusura della stagione, e infatti così è stato. Riguarda gli altri personaggi, invece, direi che hanno seguito coerentemente il loro profilo diciamo, dalle prime stagioni fino alla terza, Nancy, il fratello di Will, Will stesso, Lucas e Max, carini, coerenti, bellissima la scena dove Max e Lucas ricantano la storia finita prendendo in giro Dustin, epica anche quella scena. E tutto sommato, ragazzi, dai, è stata una bella stagione, che però, a differenza delle altre, si è conclusa. Non ha lasciato un finale aperto, come abbiamo visto nelle precedenti stagioni. Quindi questo mi farà pensare. Anzi, 11 sembra addirittura aver perso i poteri. Li riacquisirà in una futura stagione? Non si sa. Sarebbe bello, a mio pensiero, se facessero tipo Sturgeon & Things vent'anni dopo. La quarta stagione si è ambientata vent'anni dopo, i personaggi ormai grandi, chi si è sposato, chi no, chi ha fatto figli, eccetera eccetera, chi vive la propria vita. E sarebbe bello facessero un'altra avventura in versione adulti e poi alla fine facessero vedere magari ognuno di loro in versione adulta e in versione piccola. Non sarebbe male per concludere definitivamente la stagione. Allora, tirando le somme, stagione bella, carina, meglio delle aspettative. Quindi, appunto, aspetteremo curiosi di vedere se ce ne sarà una quarta. Ricordatevi sempre di mettere un bel like, ragazzi, se il video vi è piaciuto e di attivare le campanelline per ricevere le notifiche riguardanti il mio profilo. Vi chiedo sempre di scrivermi nei commenti se volete parlare di qualcosa e ragazzi ci vedremo prossimamente. Credo, vabbè, ci sarà il finale di Chernobyl e poi sicuramente il Spider-Man Far From Home. Quindi, tanta carne al fuoco. Stay tuned, ragazzi. Ciao!